Se devo essere sincero dopo i primi giri credevo che sarebbe stata la solita gara dove chi è primo resta primo per tutta la gara insomma la formula sonno e invece devo dire che non è stato così infatti Lewis Hamilton dopo aver conquistato la centesima pole position al sabato ottiene la sua terza vittoria stagionale davanti a un Max Verstappen che si deve accontentare della seconda posizione più il giro veloce. Hamilton se l'è guadagnata con una strategia da urlo e quindi complimenti a lui complimenti alla Mercedes per la strategia adesso ne parliamo intro e partiamo. Avevo predetto che in curva 1 ci sarebbe stata la sportellata da parte di Max Verstappen a Lewis Hamilton e devo dire che è puntualmente arrivata. Hamilton si porta a casa 6 punti da Max Verstappen togliendo il giro veloce dell'olandese su Verstappen che sono molto 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 importanti in chiave campionato. soprattutto considerando che viste le prime quattro gare questo con tre vittorie e un secondo posto è il miglior inizio di Lewis Hamilton da quando è in formula 1 quindi lui è il più forte e anche quando ha dei rivali sembra essere il più forte lo stesso. quindi Lewis Hamilton è partito veramente alla grande questa stagione con un Max Verstappen che se devo dire la verità sinceramente secondo me ci è rimasto un po' male di non aver vinto ieri. secondo me la Red Bull ha buttato via la gara completamente addirittura al momento del pit stop di Max Verstappen gli mancava una gomma. ragazzi ma qui ci si gioca il mondiale e la Red Bull fa degli errori come se fosse la prima gara in formula 1? un team che si gioca il mondiale non può fare questi errori. secondo me lì hanno buttato via buona parte della gara. hanno buttato via buona parte della gara anche quando si sono arresi alla strategia Mercedes che un po' inaspettatamente hanno richiamato Lewis. lì la Red Bull doveva tornare subito in pista doveva mettere gomme medie e ripassare perché gli sarebbe arrivato davanti e ripassare Hamilton con gomme nuove. quello era quello che doveva fare la Red Bull se si voleva portare a casa 25 punti oggi con Verstappen. comunque fatto sta che ha vinto Hamilton secondo Verstappen con un duello che si ripresenterà sicuramente anche a Monaco settimana prossima. dove la dico lì la butto lì è una mia congettura se Verstappen non vince il Gran Premio se Hamilton gli arriva davanti o comunque vince il Gran Premio Hamilton ha vinto il mondiale. perché il distacco diventerebbe troppo ampio per uno come Hamilton che non sbaglia mai. guardate a Imola per esempio è andato in ghiaia ha avuto fortuna safety car ed è riuscito comunque a arrivare secondo. quindi Verstappen deve almeno vincere a Monaco e sperare che Hamilton vada dal terzo in giù. poi se arriva secondo comunque 6 o 7 punti importanti glieli prende. bene si fa per dire falte di Bottas in terza posizione ennesima gara anonima da parte del finlandese che dopo essere stato umiliato al primo giro dalle Clerc con un sorpasso all'esterno riesce grazie alla macchina e grazie alla strategia ad arrivare a podio. tutti quest'anno si aspettavano un inizio diverso da parte sua in questa stagione cosa che invece non è avvenuta e rimane sempre il solito Bottas zerbino della Mercedes. tanto che quando Hamilton doveva rincorrere Max Verstappen si è ritrovato davanti proprio il compagno che senza troppa resistenza direi che lo ha lasciato passare è piuttosto palese. quindi questo è il podio dal quarto posto in giù troviamo finalmente Charles Leclerc che dopo una grande qualifica che infatti come ha detto lui in conferenza stampa è come una pole position perché vabbè quei tre là davanti sono inarrivabili per una macchina come la loro. i passi in avanti rispetto all'anno scorso si vedono ci ho dedicato anche un post su Instagram mi raccomando se non mi seguite il link qua sotto in descrizione dove elogio questo miglioramento che ha avuto quest'anno da parte della Ferrari però dove ripeto che secondo me prima di 1-2 anni per il titolo i ferraristi dovranno aspettare ancora un po' di tempo prima di rivedere il cavallino rampante davanti a tutti. bene Leclerc bene anche Sergio Perez che dopo una gara piuttosto anomala a Portimao che non fa una gara così troppo diversa rispetto a quella di Portimao cioè il suo obiettivo è quello di arrivare davanti a Bottas non c'è riuscito non c'è riuscito nemmeno a Portimao e quindi Sergio Perez per una macchina che ha comunque in top 5 direi che va bene va bene non è sicuramente da buttare via però essendo lui un gran pilota e avendo una grande macchina la seconda macchina più forte in griglia in questo momento ci si aspetta almeno un podio o comunque lottarselo invece è stato sempre dietro alle Leclerc sempre dietro a Bottas non ha mai addirittura ha fatto un po' di bagarre con Ricciardo che per quasi metà gara è stato in quinta posizione insomma Perez deve cercare di fare quel salto di qualità in più che sembrava avere nelle prime gare perché ricordo in Bahrain ha fatto una bella rimonta a Imola tra uscite errori penalità varie è riuscito comunque ad arrivare lì in questi ultimi due gran premi non proprio benissimo finalmente possiamo dire di aver visto un bel Daniel Ricciardo in gara quasi sempre in top 5 bravo anche nella ripartenza non perdere posizioni bene 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 Ricciardo che finalmente si mette dietro per la prima volta in questa stagione il compagno di squadra Lando Norris che fa una gara direi non decente per uno come lui che insomma punta a stare davanti alle Leclerc invece conclude solamente ottavo e addirittura doppiato quindi la McLaren bene con Ricciardo sesto ma malino con Lando Norris che come obiettivo ha ovviamente quello di battere il compagno di squadra ma soprattutto quello di battere la Ferrari di Charles Leclerc la McLaren in generale ha l'obiettivo di battere la Ferrari per il terzo posto nel campionato costruttori davanti a Lando Norris arriva addirittura Carlos Sainz Junior secondo pilota della Ferrari che dopo una qualifica non ottimale più o meno rimane lì in quelle posizioni per quasi tutta la gara e riesce a portare a casa comunque una settima posizione che ai fini della classifica di Charles Leclerc toglie comunque un bel gruzzoletto di punti a Lando Norris Lando Norris che a causa di questa brutta prestazione perde la terza posizione in campionato cedendo la falte di Bottas reduce da due podi consecutivi quindi peccato avrà sicuramente modo di rifarsi a Monaco non ha una posizione per Esteban Ocon io se devo essere sincero vista la qualifica vista la grande prestazione che aveva fatto l'Alpino in qualifica soprattutto più che con Ocon che con Alonso però comunque aveva fatto una bella prestazione vederlo Nono un pochino mi sorprende perché me lo aspettavo un pochino più avanti quantomeno davanti alle McLaren vista la prestazione del McLaren invece se le mette tutte e due davanti si mette davanti anche le due Ferrari e quindi la gara non dico disastrosa però nemmeno possiamo considerarla una sufficienza piena per l'Alpine una nota positiva per Ocon comunque bisogna dirlo riesce a mettersi dietro Fernando Alonso che al suo GP di casa arriva diciassettesimo brutta brutta prestazione da parte dello spagnolo che si mette davanti addirittura le Williams di Russell quattordicesimo e Latifi sedicesimo passi in avanti per le Williams veramente tanto ripeto quello che avevo detto le As sono diventate le Williams e le Williams sono diventate le As la Williams quest'anno non è più l'ultima forza passi in avanti anche per questo ovviamente ripeto c'è molto 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 da lavorare però questa è la strada giusta per quanto riguarda le As Schumacher fa quello che può con un carro attrezzi praticamente e Mazepin che non è un piloto da Formula 1 lo ripeto per la quarta volta in questa stagione arriviamo adesso all'Alfa Tauri decima posizione per Pierre Gasly che riesce ad arrivare a punti con una grande gara nonostante la posizione non esalti troppo però grande gara da parte di Pierre Gasly che dopo aver ricevuto una penalità in quanto era partito più avanti della casella a lui assegnata riesce comunque arrivare a punti scontando i 5 secondi di penalità quindi chapeau bella gara da parte del terzo pilota Red Bull perché in fin dei conti l'Alfa Tauri è una Red Bull depotenziata male il compagno Tsunoda che dopo una brutta prestazione ma un brutto weekend in generale dove è stato richiamato varie volte anche dal team va fuori solamente dopo 6 giri e quindi male 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 Yuki Tsunoda completamente da rifare si potrà rifare a Monaco quello senz'altro anche perché il talento secondo me non gli manca la macchina non è tra le peggiori quindi secondo me Tsunoda questo weekend è stato un weekend no si potrà sicuramente rifare però parlando delle Alfa Kimi Raikkonen ha lottato per i punti ed è molto importante vista l'età e vista la macchina che non è ottimale è la terz'ultima eh ragazzi fondamentalmente quindi Kimi Raikkonen lotta per i punti Giovinazzi gli hanno rovinato la gara al primo pit stop cioè un team peggio della Red Bull in quel pit stop lì non sembravano nemmeno un team da Formula 1 la professionalità non c'era hanno rovinato la gara a Giovinazzi che alla fine si è messo dietro anche qualche pilota come Latifi, Alonso, Schumacher e Mazepin il che fa pensare che forse qualche punticino oggi Giovinazzi poteva strapparlo peccato si potrà rifare a Monaco se ovviamente non gli rovinano la gara come è successo questo weekend per quanto riguarda la classifica c'è Lewis Hamilton che ha 14 punti da Max Verstappen e ormai vabbè quelli dietro Bottas che non sono più nemmeno in lotta mentalmente perché matematicamente vabbè sono passate 4 gare però mentalmente non sono più in lotta per il campionato Bella Bagarre anche per il terzo posto secondo me ci sono almeno 4 piloti a contendersi il terzo posto sto parlando ovviamente di Falte di Bottas a 47, Lando Norris a 41, Charles Leclerc a 40 e Sergio Perez anche se un pochino più attardato rispetto al Monegasco sesta posizione a 32 punti settima posizione per Ricciardo a 24 e poi così andare con Sainz ottavo e Stefano Conn fino ad arrivare all'ultimo dei punti che è Tsunoda da Raikkonen ne hanno tutti 0 ma la stagione è ancora lunga ovviamente a questo punto vista la differenza tra strategie e gare vinte Lewis Hamilton mi sembra un pochino più avvantaggiato rispetto a Verstappen però ripeto se Verstappen dovesse vincere a Monaco allora la situazione cambierebbe dietro invece vedo molto bene Valtteri Bottas e Sergio Perez perché sono gli unici al momento ad essere più tecnicamente avanzati però sicuramente se riescono ad azzeccare qualche podio Norris e Leclerc nonostante le macchine un pochino inferiori rispetto a Red Bull e a Mercedes allora la lotta potrebbe essere tutt'altro che scontata detto questo ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ho degli annunci da farvi va bene? prima di lasciarvi ho degli annunci da farvi la prima Peco Attack eccola qua il manifesto una collaborazione con il campionato di EU Pro Championship un evento che si terrà mercoledì prossimo un evento dove parteciperò io, Andrea e Flavio e dove ovviamente streamerò su Twitch un evento dove ci saranno tanti nomi importanti di EU e dove useremo tutti Pecco Bagnaia il ring sarà quello del Mugello con una qualifica da 15 minuti e una gara da 35% i posti ci sono se avete MotoGP 21 da Steam potete contattare EU Pro Championship vi lascio il link per entrare sul server Discord qua sotto in descrizione in più vi lascio anche il link per entrare nel mio server Discord dove dico comunicazioni in anteprima rispetto ad altri social inoltre venitemi a seguirmi anche su Instagram dove pubblico spesso delle riflessioni su dei piloti per il quale non ho il tempo di fare il video quindi mi raccomando venite a seguirmi anche là perché usciranno post a profusione sono attivissimo su Instagram ma la cosa più importante venitemi a seguire su Twitch è la mia seconda piattaforma dopo ovviamente YouTube che è quella primaria sono in live quasi tutte le sere con Andrea e Flavio ormai siamo una squadra raga quello è una squadra ci divertiamo la sera su Twitch tutti i link che vi ho elencato sono qua sotto in descrizione detto questo da me è tutto noi ci vediamo in un prossimo video che sarà domani con MotoGP21 ciao ragazzi